ciao a tutti in bocconate di cenobito l'american community event ciao a tutti sono umberto lombardo e sono qui per presentarvi un bellissimo programma e il programma si tratta dell'annuale precessione di Maria Santissima Dolorata di Castelperoso che annualmente viene sponsorizzata dagli oriundi castellani un bellissimo club che vengono da Castelperoso e visitano qui nel New Jersey e a loro va il merito di questa Dolorata di Castelperoso è conosciuta nella buona parte del New Jersey e io che pubblico nel mio programma questo bellissimo evento religioso a cui ci tengo molto a questa proiezione perché si tratta della Dolorata di Castelperoso e il mio zio la sciprete dottor Domenico Lombardo è stato un zelante apostolo della Dolorata e del santuario di Castelperoso so che nel 60 negli anni c'è 50 e da 40 negli anni 50 fino al 60 invece molto per il santuario e non voglio delinguale ecco poi la bellissima processione della Dolorata di Castelperoso Gli ultimo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. 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 a tutti.